E' stato inaugurato nella mattinata di venerdì il primo Brescia Green che si terrà tra Via Dieci Giornate e Corso Zanardelli fino al 7 maggio. Brescia Green è il festival dell'ambiente e degli stili di vita sostenibili. Presenti all'inaugurazione l'assessore all'ambiente del Comune di Brescia, Gianluigi Fondra, e l'assessore all'ambiente della Regione Lombardia, Claudia Terzi. Brescia Green è la prima iniziativa di un festival che ci auguriamo diventi una ricorrenza negli anni, dove questa città accompagna un cambiamento evidente nella popolazione e nella consapevolezza che la sostenibilità ambientale è il valore maggiore da perseguire nelle scelte e nella divulgazione di questi valori. A me fa particolarmente piacere ricordare ai nostri concittadini che questo non più di 4 anni fa era un corso trafficato, percorso da macchine e da autobus. Oggi sta diventando il luogo principale della riflessione e della festa anche intorno agli stili di vita sostenibili. Assolutamente sì, convintamente la Regione Lombardia è sempre vicina sia alle amministrazioni locali come quella di Brescia che puntano molto sui temi ambientali e sia soprattutto ad associazioni ma anche a pubblicazioni come Info Sostenibile che parlano di green sempre, tutti i giorni a 360 gradi. Quindi da una parte facendo educazione che è fondamentale, quindi l'educazione ambientale, l'educazione alla sostenibilità ai temi ambientali e dall'altra anche diffondendo quelle che sono le buone pratiche e anche le nuove tecnologie. La sostenibilità è un mondo diverso, insomma si fa soprattutto puntando sull'innovazione. Regione Lombardia ci crede e il fatto di trovare da una parte testate, dall'altra amministrazioni comunali che seguono con Regione questa via direi che è assolutamente fondamentale. Ovviamente i cambiamenti soprattutto a livello del quotidiano sono più difficili o meglio. I risultati di questi cambiamenti si vendono spesso e volentieri nel medio e nel lungo periodo, che è quello che è un po' il limite delle nostre politiche. Ed è il motivo per cui però bisogna farle convintamente, cioè iniziare a piccoli passi perché i risultati grandi, anche se li ottieni tra qualche anno, saranno comunque fondamentali. Quindi questo è lo fare in Regione Lombardia per esempio sposando progetti europei sul riuso, pensate voi, del materiale da demolizione. Che voi direte, magari è ben poca cosa all'interno di una discussione più ampia, ma è fondamentale in una regione, in una provincia come Brescia o la mia Bergamo, dove l'edilizia l'ha sempre fatta da padrone. Quindi piccoli passi per grandi risultati, anche nel tempo, in un tempo più lungo. Innovativo se si pensa soprattutto che sostanzialmente d'ora in poi, già dalla prossima stagione termica, le regioni si muoveranno con azioni assolutamente comuni. Ma comuni vuol dire dai giorni agli orari, per esempio, del divieto di circolazione, dalle modalità con cui intervenire per quanto riguarda il riscaldamento domestico, l'agricoltura. Quindi una sinergia che renderà ovviamente la vita più facile ai cittadini che abitano in queste regioni, che quindi non dovranno tutte le volte stare lì a vedere se devo passare dalla Lombardia o dal Piemonte se cambia qualcosa. Ma soprattutto per le imprese lombarde, che sono state le prime a subire poi tutti questi divieti, ovviamente vuol dire avere una pari opportunità rispetto anche alle altre regioni. Questo è ovviamente importante, soprattutto, ripeto, per le aziende.